Grazie, grazie dottoressa Svampa, io vi do il benvenuto qui alla Camera, naturalmente a nome del Centro Studi Machiavelli, di Nazione Futura, di Giovani a Destra e della Fondazione Tatarella, che sono partner nella realizzazione di questo importante convegno sui cento anni dalla vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Bisogna ringraziare tutti i relatori, in primis il Presidente della RAI, Marcello Foge, che ci onora della sua presenza, naturalmente l'amico generale Bertolini, il collega di tante battaglie parlamentari, Marcello De Angelis, il nostro amico storico Mastrangelo e naturalmente la dottoressa Svampa, che avrà la pazienza di moderare tutti i nostri interventi. Cento anni dalla Grande Guerra, proprio in questi giorni, cento anni fa, c'erano celebrazioni in ogni angolo d'Italia per la fine di un conflitto che fu estremamente sanguinoso per la difesa dei confini nazionali. È quanto mai quindi un tema di grande attualità, all'ordine del giorno delle cronache giornalistiche di questi giorni, la difesa dei confini nazionali. Come sapete il governo, il nuovo governo è estremamente impegnato nel ripristino di quella che è una sovranità nazionale che nel corso degli ultimi anni era andata svilendosi e scomparendo. Noi abbiamo posto con forza l'accento sull'identità nazionale, la sovranità nazionale e quindi anche la difesa dei confini. Per cui quanto mai è importante oggi qui alla Camera ricordare con un parterre così eccezionale la fine della Grande Guerra. Vorrei ricordare un episodio familiare per dirvi quanto è importante e quanto sia presente nella vita di tanti di noi il ricordo di questa guerra. Il mio nonno e il suo fratello erano, il fratello che era un capitano dell'esercito, del regio esercito, era un giovanissimo del 99 che fu chiamato al fronte. Il fratello, il mio nonno che era molto più giovane, aveva solo 15 anni, per non lasciare il fratello andare a, si presentò anche lui al fronte e la polizia militare lo portò via da una trincea a pochi metri dagli austriaci e fu riconsegnato alla madre perché naturalmente era un giovane 15enne. Questa è stata la Prima Guerra Mondiale. Tante storie personali di giovani che sono andati a sacrificare la propria vita, talvolta consapevolmente, come era il caso di mio nonno e di suo fratello, altre volte inconsapevolmente, ma si combatte per difendere il suolo patrio. Questa è la lezione che ci lascia la Prima Guerra Mondiale. Ricordo, faccio le citazioni autobiografiche perché danno anche il dramma di quello che fu quella guerra. Il giovanissimo del 99, il fratello di mio nonno, fu esposto ai gas che gli austriaci usavano nelle trincee e morì giovanissimo a 38, 38 anni per gli effetti, quindi 20 anni dopo rispetto alla fine della guerra, per i gas che aveva ricevuto. Quindi è giusto ricordare quel grande sacrificio che tutto il popolo italiano fece durante quei mesi, anni di guerra, dal piave in avanti fino a quel 4 novembre del 1918, quando il tricolore alla fine fu issato a Trento da una parte sul Castello del Buon Consiglio, a Trento e dall'alto a Trieste. Questa è l'eredità che noi abbiamo ricevuto, è l'eredità che noi oggi vogliamo celebrare e la risposta migliore di quel ricordo è vedere così tanti giovani che oggi hanno voluto partecipare a questa celebrazione. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e posso solo dire che in un'occasione come questa non lo scambiate come slogan politico però fatemi dire veramente viva l'Italia, non uso dire forza Italia ma viva l'Italia. Grazie a tutti e buon lavoro.